Sì, no, vieni a far partire insieme. La peracaffè è già pronto. La peracaffè è già pronto. La peracaffè è già pronta. Massimo, anche se non ho fatto il caffè a casa, facciamo qualcosa di altro. Schifo, oggi è festa. Festa. Io non ho già partito, oggi è festa. Oggi è festa. Una discussione soft. No, secondo me che si fa una puntata che... La puntata è così. Ma io quella sempre è così. Sarà tutto a pieno. Eccolo, è spettacolare. Eeeh, stiamo andando. Come stiamo andando le cose? Eh, c'è anche Lara, primo piano. No, via. Su web. Sì, stai parlando. La macchina, scrive qua su carriera. Non le ho scrivono le cose. Le facciamo un attimo. Dai, ricomincia. Facciamo un'altra oltre. Facciamo un'altra oltre. Facciamo un'altra oltre. Facciamo un'altra oltre. Non le vuole qua. Ricomincia a puntata. Dai. Manda in te. Uuuuh. Dai, dai. Dai, dai. Ti la fai. Dai, dai. Ah, dai, dai. Ah, dai, dai. No, no. Perché è sempre così a partire. E' perché? E' perché c'è una tazza ancollata. Ancollai una volta. Non sai che ancollai io? Ancollai? No, oggi in Maraccio. Oggi in Maraccio, quindi, l'informazione si ferma a Piondino. Si ferma a Piondino. Siamo in Maraccio. Ma oggi diciamo che... No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. No, non lo sappiamo. Magari che non lo dì. Non lo dì. Grazie, Maraccio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Allora, si forse di una zuccheria. Che è? Un alieno. Non lo fattela mai. Non lo fattela. Non lo fattela. Non lo fattela. A che ora andiamo questa ventola? A questa manzina? Che si indirizia. Ta-tan. Ta-tan. Sì. 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 Ci vediamo in un cul-de-sacca. Vediamo un cul-de-sacca, eh? Facciamola in 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 un cul-de-sacca. Tornato. Sì. Sì. Ancora. Ancora è tornato. No, lo chiamo. Hai chiamato il cul-de-sacca? No. Sì, forse. La bombola a quest'ora. Pronto a spedare civile di Porto-Ferraia. Buongiorno. Ha fatto un figurone. Eh? No, mi scusi. Ma asvivono. No, schizzola, schizzola. Ma aspetta in ginocchio, no. No, gli è arrivata. No, no. Sì. E' qua. E' qua, ti e' qua ma chiamolo. E' qua? È un basto. È già tanto la mamma? Come sta a mangiare. O qui la sta a mangiare la schizza. No, grazie. Che beccola, il canzetto? C'è la ste vecchia di canzetto? Non la matretta? L'ha visto. Mi chiamate? La grande richiesta. La grande richiesta. La grande richiesta. Visto il nostro giornale stamattina. Dale Giuseppe, non pari il depovo. Facciamo un lettino. Il Padrino. Non so se ne ho scelgo la vita. Il Padrino è un segno. Buon lavoro, il Padrino è un segno. E vanno da Tempe. Ma poi? Tempe è uguale. Ma poi viaggiano. Mi sembra rinforerà che siamo via. Pagano a me è fino a 400, 300, 300 mila euro. Il problema è che il zucchero, i caccapolini... Ah, ciao, carissimi sindaci. Mi chiedeci la croce. Con questo tempo qui... Aspetta. Che non si sbalca con le nado. Ma trasformerà dai trucchi. Come facciamo... A a vostro po' a capo. A capo. A a vostro po' a capo. L il contributo di sbalca. Dagni? C. Dagi? A capo. L'altra volta a capo. Si. E questi capi... E questi capi... Se non si sbalca... ma perché mi piace ma io farei pagare a campiglia maio buongiorno buongiorno aspettami se può soltare aspettami se può soltare due punti aperti piccoletti aperta la parete due parete con due o con due o e più mettiamci l'altro gno gno vai no se non lo facciamo pagare a campiglia quindi campiglia la cina russa aspetta 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 ne ho guagliate è in partenza ordinario tre da campiglia marittima oh che vale questo c'ha quasi 60 anni ormai è andato bene vestiti saluti saluti come l'ora hai scappato di casa gli amici del bar gli amici del bar lo avete filmato? sì guarda che hai briciato il tasto avanti 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 questo è lo spazio questo è lo spazio la più grande macchina la più grande macchina la si vede mai inventata basta mangi ragazzi ma è pulchero se arrivo a parte della pola con zucco ragazzi è lunga la giornata non sai come fare che figli ragazzi una mia mia è di una mia è di una mia ma se gli inizia faceva i fautes è meraviglioso buone 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 chi è che? ah è medico dai andiamo in prima linea hai conosciuto il principale guarda 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 la forza si apre spazio non sapevo che dire ha aperto la porta da qui verso di qua con l'articolo della giornata va bene i medici tar 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 uè il primaria non ricordi il cammino il cammino non c'è ne sono bene il maracco del giorno dopo il maracco del giorno dopo è la capricita ciao ciao oggi è il 29 oggi è il 29 il tuo prezzo il prezzo di Michelangelo fai gli lavori su un pochi e quattro anni sono un taglio di quattro anni Michelangelo ho vettuto bene la mia città la mia città la mia città la mia città il grande di donato la mia città 29 quindi poi domani iniziano vedi a la mia città la mia città e gemellato la mia città la mia città la mia città la mia città e di carriera come hai fatto il tuo verso? non si ha visto si vede noi il video è molto più largo il campo non si ha tolto la ciavorta no non si può vedere no si vede 360 anni si vede anche che c'è una quella che è la confronto di quelle SuperZonicus ooooooo questa cosa è che c'era come? non è utile la mia città la mia città ma questa è un'applicazione corre, corre, c'è un minuto e mezzo un minuto e mezzo, vai, veloce, veloce la macchina, lava la macchina chiude, salto fermo un minuto e mezzo un minuto e mezzo troppo forte no qui c'è il portofrario no, no, no il figlio è sottometra dentro, ci vuole che finza l'aria tutto il lavoro è giro guarda che belle pace guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 eccovi guarda, perché prima ci sono le cose serie non te li stai a conno o ucite i viti, no? apri un po' di viti 4 pagine di macchine, guarda, guarda bello il vostro giornale, guarda 4 pagine di macchine tira, tira fermo guarda, guarda, questa è la bruffera su conti e cune il sindaco mette in muore la funzionaria che vuol dire? è la bionda ascolta, bella è mucicante, mette in muore, a muore ma non c'è un pescatore disperso un po' ma vuol dire il cazzo, ma di noi ci stanno ma io non lo ascolto non c'è un pescatore c'è un bellone per vedere sì, è arrivato comunque il nuovo sconto sull'amministrazione di mezzo è di bagnare ma questo l'hanno ancora trovata eh, ma la sto pescatore, ma che? ricerca in corso per un vicino per un'altra mano è stato il padre dove era? è tornato di là è tornato di là è dicendo grossa, l'avevo sentita è tornato di là 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 ma il tempo per trovare più delle scuole che appena una dall'italia, vedi? prima arrivavano, ma ora se ne vanno e poi la decisione dell'extensione si è venuta sul ferro non vuole non vuole spazio 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 ma vuole a Cicina? a Cicina? a Cicina a Cicina tre ruote usate e una riscosta c'è la quarta nuova ora mi fa comprare momento scontro sotto il diluvio scaccionato climatizzato è anche climatizzato avevo aspettato le notizie puoi avere le pagine ma c'è quattro pagina non lo è se fa climatizzare non lo è se fa climatizzare ti ho detto se l'abbiamo climatizzato caldo d'estate e freddo e inverno è climatizzato cosa vuole? Macchia? forte ma ha anche una pezzata arrivederci ciao